Ciao a tutti, sono Laura Antichi. Vediamo ora come creare un semplice proiettore per diapositive. Innanzitutto è opportuno aver creato le diapositive, ad esempio, mi mostro con un powerpoint e poi averle salvate con salva con nome in jpeg oppure in png. Dopo aver fatto questa operazione le diapositive vanno caricate andando nel menu costruisci in carica immagine, una per una si scelgono l'immagine e si caricano in OpenSIM così da averle a disposizione nell'inventario. Come potete vedere ho caricato tutte le mie diapositive nell'inventario. Queste diapositive riguardavano una presentazione degli script. Ora vado a costruire un pannello, chiudo l'inventario, quindi clicco nella sandbox, crea, creo un cubo, qui va bene la sfera, facciamo il cubo. Ho messo il cubo invece della semisfera, quindi che mi era venuto automaticamente e cliccando in modifica vado a quindi modificare le dimensioni del mio cubo per costruire un pannello. Allora per quanto riguarda l'altezza e la larghezza potrebbe anche andare bene così, ora vado a modificarne lo spessore e lo rendo sottile. Ecco questo è il pannello che mi servirà come proiettore delle mie diapositive. Ora vado in contenuto e in contenuto vado a caricare le mie texture, ossia immagini delle diapositive. Quindi apro l'inventario, seleziono le diapositive, come vedete, dalla prima fino alla diciottesima. e trascino le diapositive che ho selezionato nel contenuto della lavagna. Poi dovrò mettere uno script, quindi nuovo script. Il nuovo script con il destro del mouse vado in rinomina, lo rinomino, proiettore, faccio invio, apro il proiettore e vado ora a incollare lo script. Questo script mi permetterà di visualizzare le diapositive sulla lavagna. Quindi vado in salva e vedo se tutto è andato in porto. Sì, mi dice che la compilazione è riuscita, il salvataggio è completato. Chiudo lo script e qui sono a posto. Ora vado, come solitamente faccio, anzi vado in contenuto ancora, per quanto riguarda il proiettore, do i permessi, do tutti i permessi, che così le persone potranno vedere e così imparare a utilizzare poi lo script. Applica. Ok. Ora devo andare in generale e dare un nome, quindi proiettore, diapositive. Come descrizione metterò lezione di scritte. Do il condividi con il gruppo, siamo in un ambiente educativo in questo caso, poi chiunque propria, il proprietario successivo, do tutti i permessi, copiare, modificare, copiare e trasferisci. Quindi sono a posto. Vado in texture. Ora. Vado comunque a seleziona la faccia. Seleziono la faccia, questa faccia, in fronte. Vado a scegliere la texture, tra le mie texture. Scelgo la prima, la prima texture. Questa. E ok. Dovremmo essere a posto. Chiudo questo. Vado ora a vedere se lo script funziona. Clicco, come potete vedere, funziona sul fronte e vedete che riesco a scorrere le diapositive. Ottimo. Quindi questo, quando si vogliono presentare delle diapositive agli studenti in un ambiente OpenSIM. Ora vado a controllare però una cosa. Vado a controllare che, ecco, vedete che me l'ha messa su tutte quante le facce. Quindi clicco sulla faccia posteriore. Modifica. E tirerò via la texture dalla parte posteriore. Nella parte posteriore. Quindi. E la renderò vuota. darò magari un colore rosso alla parte posteriore. Ok. Ok. Ora. Chiudo. E vedo che me l'ha... che mi ha... che mi ha... che mi ha messo tutto rosso. Cose che possono capitare. Meglio che capitino qui per vedere come fa a fronte quindi ai problemi. Quindi clicco e di nuovo in modifica. Avevo selezionato la faccia. Si vede che non ce l'era presa. Di nuovo clicco qui il colore lo faccio bianco di questa faccia. Luminosità massima. Vado a ricliccare su texture. E vado a scegliermi la mia... nel mio... nelle mie texture. Vado a scegliere la texture della diapositiva iniziale. La prima. Ecco. Ok. Ok. Adesso tutto è a posto. Vedete quindi che ci vuole un po' di cura perché pur avendo prima selezionato soltanto la faccia principale era accaduto che si prendesse la... la diapositiva sulle altre facce. Adesso è tutto perfettamente in ordine. A questo punto posso... potrei anche assottigliare questa... questa diapositiva ma va bene così. La lascio così. Quindi abbiamo raggiunto lo scopo di preparare delle diapositive pronte per essere visualizzate e presentate alla classe. Poi dopo posso ingrandire o rimpicciolire la stessa diapositiva ma ehm... posso andare in modifica naturalmente e fare ancora delle modifiche per quanto riguarda la... ad esempio potrei ruotarla leggermente indietro. Così potrei... allargarla un po' forse... e posso apportare dei successivi ritocchi. Comunque le slide sono pronte e sono anche pronte da consultare perché ho attribuito a questo lavoro tutte... e tutti quanti i permessi.